Con la cronaca, perché c'è stato un grave incidente sul lavoro ad Aprilia in provincia di Latina. È accaduto questa mattina due operai, sono morti in un impianto di compostaggio di proprietà della Acea di Roma. Allora, da Aprilia c'è il nostro invitato. Matteo Parlato. Sì, buongiorno. Sono proprio qui davanti l'impianto della Chiclos, del gruppo Acea, come giustamente dicevi te, non so se riuscite a vedere, alle mie spalle, ci sono i nastri bianchi e rossi che delimitano la zona dove è avvenuto l'incidente. L'incidente, due operai sono morti, erano due operai di una ditta esterna che erano venuti qui con un autobot. Nel momento dell'apertura dell'autobot, il primo si è sentito male subito e l'altro è andato per soccorrerlo e purtroppo, poco dopo, è morto anche lui. Su cosa si è uscito dall'autobot e su cosa abbia ucciso i due operai? In questo momento sono in corso i rilevamenti dei carabinieri che poi consegneranno tutto il materiale al magistrato che dovrà indagare su quello che è successo. Intanto abbiamo visto che molti camion sono respinti qui dall'impianto perché ci hanno detto che sono stati posti i sigilli all'interno di questo impianto che è un impianto di compostaggio molto, molto grande, sono circa 90.000 metri quadri. Purtroppo dobbiamo dire che questi altri due morti vanno ad aggiungersi al tragico bilancio di 335 morti sul lavoro secondo i dati INEL dall'inizio dell'anno. Se non avete domande da studio, dallo stabilimento, vi restituisco la linea. Grazie a Matteo Parlato, torneremo sicuramente a collegarci con te più tardi per capire meglio le dinamiche di questa vicenda.